Lucia Ulano parte una nuova stagione per il Cus Molise fatta di tante attività per tutte le età soprattutto. Sì, sarà una settimana intensa piena di tante attività da provare in forma totalmente gratuita per chiunque volesse approcciarsi al mondo sportivo e nello specifico al Cus Molise, è una settimana aperta sia agli adulti che ai bambini. In settimana partiranno tutti i settori giovanili a partire dal mercoledì 14 con l'open day dedicato al calcio, successivamente ci sarà il basket, giovedì c'è il nuovo settore in promozione che è il pattinaggio, quest'anno inauguriamo questa nuova sezione e poi dal 26 di settembre ci sarà tutta una settimana dedicata al mondo della danza. Il Cus che quest'anno ha scelto anche tra l'altro di avere una squadra di calcio a 5, di sponsorizzarla, quindi per permettere anche ai più piccoli che frequentano per l'appunto il Cus di poter sognare di perché no indossare anche la maglia della prima squadra del Cus, in questo caso di calcio a 5, sperando in un futuro anche di più formazioni. Sì, questo è un progetto che parte con il calcio a 5 perché abbiamo quest'anno la fortuna di avere questa fusione con la WinADV dello scorso anno che si è unità al Cus Molise e quindi abbiamo formato il Cus Molise calcio a 5, ma è un progetto che si porterà avanti con tutti i settori giovanili, dal basket alla pallavolo con cui abbiamo una collaborazione con il volley Campo Basso e anche lì ci sarà la possibilità per le piccole atlete, nello specifico della femminile, di poter sognare un giorno di diventare pallavoliste della prima squadra del volley Campo Basso. Lo stesso con il basket, il centro mini basket Cus Molise che oggi presentiamo come fusione insieme con il centro mini basket della cestistica, domani i nostri piccoli cestisti possono sperare e sognare di indossare i panni di un cestista da adulto, insomma di diventare un grande giocatore di palacanestro. Continuano queste anche collaborazioni, definiamole così, con istruttori per l'appunto qualificati, ma anche un parterre di professionisti per quanto riguarda il reparto anche dell'università e quindi un posturologo, un nutrizionista, insomma per poter offrire ai genitori per i loro figli il meglio. Tante figure professionali che proprio provengono dall'università di studio del Molise, dalla facoltà di scienze del benessere, medicina e chirurgia che si sono uniti al Cus Molise proprio per dare una scelta anche non solo dal punto di vista sportivo, ma essere seguiti i genitori e i bambini anche da un punto di vista prettamente diciamo medico, perché abbiamo anche il progetto EPD che è il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda gli over 50. E' un progetto che nasce in collaborazione con il Cermi e l'ospedale Cardarelli, nello specifico gli anziani vengono seguiti dal punto di vista medico e poi dal punto di vista sportivo vengono al Pala Unimol e con i nostri istruttori qualificati fanno attività motoria e cerchiamo di studiare come l'attività fisica previene l'invecchiamento sia mentale che fisico.